Buongiorno amici, è passata alla Camera la legge ZAN contro la omotransfobia, una proposta di legge ingiusta, inutile e liberticida, che se dovesse essere approvata definitivamente al Senato, punirebbe fino a sei anni di carcere una non ben definita istigazione alla discriminazione per motivi fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Ebbene, in molti paesi dove sono state approvate leggi simili, si sono verificati centinaia di casi di persecuzione ideologica. In Inghilterra, in Germania, in Spagna, sono stati processati o arrestati numerosi pastori o sacerdoti come il reverendo Williamson, il predicatore Tony Miano, il pastore Latzel e l'arcivesco Canizares. Solo per aver criticato l'ideologia del gender o aver spiegato alcuni passi della Bibbia sull'omosessualità. In America, Aaron e Melissa Klein, due pasticceri, sono stati multati per 135.000 dollari solo per aver rifiutato di fare una torta per un matrimonio gay. In Canada, il professor Zucker, famoso medico sull'identità di genere nei bambini, è stato licenziato a causa della sua cautela nei trattamenti per il cambiamento di sesso dei bambini. Questo tipo di leggi impongono di trattare i maschi transgender, cioè quei maschi che si dichiarano donne, come vere donne. Eppure non si contano all'estero i casi di violenze sessuali sulle donne da parte di maschi transgender, come Stephen Wood che ha ammesso di aver aggredito sessualmente due donne in un carcere femminile e di averne violentate altre due fuori dal carcere. Al punto che, dopo i numerosi stupri di donne da parte di maschi transgender, il governo americano ha imposto che nei rifugi per le donne senza tetto siano ammesse solamente vere donne. E i maschi transgender che partecipano agli sport femminili, come Nathalie Van Gogh, famoso campione ciclista, o Roy Burton, famoso campione di arti marziali, o Gavin Abbard, famoso campione per sollevamento pesi. Perciò possiamo facilmente prevedere le conseguenze pratiche dell'applicazione della legge ZAN. Questa legge discriminatoria è pericolosa per l'uguaglianza e la libertà di ciascuno di noi. Restiamo liberi!